Genti istriane forgiate da dura vita, dei campi pietrosi dalle miniere dell'Arsia, dalla vita sul mare, genti antiche di stirpe romana, molte, molte oppresse dallo straniero. Chi mai potrà dimenticarvi? Grazie a tutti. Nella giornata del ricordo, la targa posta oggi dal comune di Napoli nel Bosco di Capodimonte è una presenza che rappresenta un'assenza di memoria per i tragici eventi legati all'esodo Giuliano d'Almata, la diaspora forzata degli italiani alla fine della Seconda Guerra Mondiale e gli eccidi conosciuti come i massacri delle foibe. Proprio qui nel Bosco di Capodimonte venne allestito uno dei tre campi profughi di Napoli, il più grande, con mille persone che vissero qui per decenni e per generazioni. Di quel periodo tutti loro raccontano di una grande integrazione e di un rapporto ottimo con la città, che li accolse, pur essendo in condizioni di grande povertà, a causa delle devastazioni della guerra. 300.000 persone circa lasciarono le proprie terre perché perseguitate. Dovettero cominciare da capo una vita nuova e alcune di queste incominciarono una vita nuova a Napoli. La targa di oggi che inaugura il comune di Napoli con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia è importante per questo perché aiuta tutti noi a ricordare un momento di storia lontana ma anche vicina perché di fatto migliaia di persone vennero a Napoli e furono accolte dalla cittadinanza con grande calore, con grande ospitalità. Era un momento in cui Napoli non aveva nulla o almeno c'era ben poco, con le distruzioni e le macerie della guerra accomunavano un pochettino tutti. Con questo clima di distruzione tutti insieme ripartirono, migliaia di persone ricominciarono da capo da Napoli. Quindi per questo è importante che il comune di Napoli diceva di mettere una targa per ricordare questo momento, questa pagina. Una pagina di pulizia etnica e di persone allontanatesi dalle loro terre, dalle loro case, diventate profughi per sfuggire agli orrori della guerra, della violenza e del genocidio e anche però mi permetto di dire una pagina bella della nostra città, come sempre capace di esprimere la sua grande vocazione all'accoglienza, alla solidarietà e alla capacità di integrare. Quindi memoria certo di cose terribili che ci richiamano l'attualità tragica del nostro mondo contemporaneo ma anche un segno di speranza perché c'è una grande umanità a partire da Napoli che può sicuramente anche in momenti così difficili pensare a riprogettare un mondo diverso da quello che purtroppo stiamo vivendo e conoscendo in questo nostro tempo. Grazie a tutti.